rimasti a terra. Nuovo vertice oggi è la protezione civile per far fronte all'emergenza e fare il punto sulla situazione, anche in previsione dei disagi che potrebbero aumentare da lunedì con le necessità dei pendolari. Il sottosegretario Guido Bertolaso sottolinea che non ci sono rischi per la salute. Sentiamo allora il servizio di Carolina Casa. Potrebbe arrivare questa sera in Toscana la nube di cenere, secondo le previsioni dell'Istituto Londinese di Vulcanologia, che sta monitorando l'evoluzione. Per gli esperti la nula si starebbe lentamente spostando verso sud-est, ad essere interessata gran parte dell'Europa centrale. Si parla di modelli matematici che indicano possibile presenza di cenere sui cieli del nord Italia. Al momento, dai rilevamenti che abbiamo fatto, questa cenere non è stata individuata. E' per questo che vogliamo approfondire la componente scientifica di analisi per capire se questi modelli sono esagerati e quindi possiamo eventualmente, a livello italiano, stabilire delle procedure con l'Enac e con l'Enav per garantire, a meno se non tutti, i voli secondo alcuni corridoi specifici che sono stati preventivamente controllati. Nessun rischio per la salute, ha ribadito il capo della protezione civile Bertolaso, la riunione del comitato operativo per fare il punto della situazione e capire quali iniziative mettere in campo per ridurre i disagi. In questo momento è in corso un volo di ricognizione dell'Enac sullo spazio aereo italiano per verificare l'eventuale presenza di cenere a diverse quote. Al momento non riscontrano nessun tipo di avaria. I motori, anemometri, prese d'aria, temperature dei motori, in questo momento non danno nessun tipo, anche a vista, non danno nessun tipo di immagine o comunque di qualsiasi vocenno di probabili presenze di ceneri.